Con Mr. Ulivi al termine di questa partita col Procida, insomma tutto quello che poteva andare bene oggi è andato bene? È andato bene perché l'abbiamo preparata, se non prepari le partite poi non è che ti aiuta sempre la fortuna. Diciamo che abbiamo interpretato una gara quasi perfetta al cospetto comunque di una squadra come il Procida che comunque ha dei valori assoluti e quindi abbiamo dimostrato di potercela giocare contro tutti ma del resto era successo anche in precedenti occasioni e solo per un pizzico di sfortuna mi credo che non abbiamo raccolto molto di più di quello che probabilmente abbiamo oggi in classifica e mi riferisco in particolar modo alle due gare casalinghe con il Sant'Agnello e con il Sant'Antonio Abbate. Oggi abbiamo giocato una buona gara, nonostante il mare insomma siamo arrivati giusto e giusto in tempo per fare il riscaldamento. Quindi onore ai ragazzi che durante la settimana lavorano tanto e mi seguono tanto, questa è la verità. Con una battuta, sempre elogiato dell'Ischia, Castagna e Rubino, alla fine ha preso Ghiattarelli che gli ha fatto due gol. Ma Castagna e Rubino sono due ragazzi che probabilmente meriterrebbero altre chance, altre categorie e quindi voglio dire sicuramente sono due ragazzi a cui sono affezionato perché io li ho avuti l'anno scorso con me a Pozzuoli. Abbiamo preso Ghiattarelli perché comunque è un ragazzo che va bene, interpreta molto bene il nostro 4 di 3 come attaccante centrale quindi è un ragazzo che aveva bisogno solo di un po' di autostima, un po' di considerazione insomma come tra un papà e un figlio noi cerchiamo di lavorare anche su questo e devo dire la verità il ragazzo già nella precedente gara pure con Sant'Agnello era stato determinante ma sono contento.